Giorgia, sono una donna, sono una madre, solo cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, solo cristiana. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, solo cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, solo cristiana. E' il gioco del pensiero unico, ci devono togliere tutto quello che siamo perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Vogliono che siamo genitore uno, genitore due, genitore uno, genitore due, uno, 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 due, genitore uno, genitore due, genitore uno, genitore due, genitore uno, genitore due, uno, 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 due. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, ma noi non siamo persone...